ah lui lo vuoi tirare giù? l'anaconda è dietro di te, un occhio è qua mi abbandono la wing e... ah cazzo aspetta vabbè ma da lei te ne vai non hai problemi flight assist off si 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 target shield online flight assist off sto per entrare nell'awake, se mi mandi il... anzi te lo mando io le invito tu ce la fai a... 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 accettarlo al vol fatto 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 no 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 ok perfetto andam in vengo per soffrire vengo per soffrire oh sono... dove sono? flight assist off flight assist off non vedo nessuno non vedo nessuno ah ma è perchè... no si si sorry sorry eh... eravate... lontanissimi flight assist off eh non vedo più il clipper però target shield offline non vedo nessuno flight assist off all power plant capacity exceeded ah è stato fuori l'armi il clipper dai oh sta sparando flight assist off eh ma me ma dai c'è che c'è quell'altro che mi sta sparando perchè... che mi sta parlando ma ti ha sparando? eh non è bambi ma dai... stavamo parlando con qui... eh che c'è che sta sparando anche l'altro? flight assist on l'armi vedo nessuno Sto andando Eh beh, se non è stupido È una loca